ben trovati amici del lettore medio io sono antonia e oggi parleremo di perdersi di annierno edito dall'orma editore annierno lo ricordiamo è premio nobel per la letteratura il libro perdersi è il racconto in forma di diario di una storia d'amore realmente vissuta l'amore dell'erno per un diplomatico russo sposato un amore quindi che non può essere vissuto alla luce del sole un amore costretto al buio al buio degli avvolgibili tenuti bassi dei nascondimenti dei momenti rubati un amore che non può sostanziarsi che non può concretizzarsi nei piccoli gesti quotidiani quelli tipici degli amori vissuti alla luce del sole degli amori ufficiali il filo conduttore dell'intera narrazione è l'attesa l'attesa regna sovrana sopra ogni cosa l'attesa di una telefonata l'attesa di un incontro la paura che quell'incontro per un imprevisto per un impedimento imponderabile impossibile da vaticinare non si compia dilatando così ulteriormente l'attesa stessa appunto tra una notte d'amore e l'altra l'erno parla di una felicità dolorosa di una gioia dolente la gioia tipica della vigilia del momento prima il giorno prima dell'incontro e insieme il dolore la dolenza la sofferenza per questo amore incompiuto per questo amore che non non può essere vissuto nella quotidianità dei giorni c'è un passo in particolare in cui l'erno scrive l'idea di poter scrivere di questa persona dei nostri incontri sostituisce l'idea di morire e capisco che dentro di me il desiderio la scrittura e la morte si scambiano continuamente di posto da sempre il desiderio la scrittura e la morte come se questi tre elementi il desiderio la scrittura e la morte diventassero imprescindibili intersecati l'uno all'altro così da formare una sostanza densa impossibile da dividere la vita che somiglia alla morte che somiglia al desiderio all'amore che somiglia alla scrittura il libro dell'erno è un libro struggente struggente perché si percepisce il dolore di chi ama ed è costretto a raccogliere le briciole ad accontentarsi delle briciole ad accontentarsi delle ruberie dei momenti rubati appunto dei piccoli spazi di tempo sottratti a una vita ufficiale della quale l'erno e come l'erno chiunque abbia vissuto un'esperienza simile non fa parte io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi aspetto alla prossima video recensione del lettore medio e vi lascio un abbraccio io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi ringrazio